Libero in tre minuti, in supersintesi, come si presenta la giornata che inizia? No, ma come ce l'hanno la faccia, scusa? Allora, quelli dell'Usi Grai, il tradizionale sindacato molto di sinistra, molto progressista dei giornalisti della RAI, ha proclamato, aveva proclamato per ieri, lui disse, immagino un grande sciopero, per cosa compagni? Contro l'ingerenza dei partiti nella RAI, aspetta un attimo, te lo ripeto, cioè contro l'ingerenza dei partiti nella RAI, ma come sei capace, sei completamente rincognito, sono 50 anni che i partiti pascolano dentro la RAI, a sinistra e non solo, hanno lottizzato pure le fioriere di Viale Mazzini, il povero cavallo l'hanno fatto a bistecche, adesso che è arrivato da un anno il governo di centrodestra, che non è che abbia fatto scelte brillantissime, ma ha tentato un minimo riequilibrio di quella roba, i giornalisti scioperano e dicono, ragagna fuori i partiti alla RAI, ma quello diceva ragazzi, chiamiamo gli infermieri perché qua qualcuno non sta bene, non solo, non gli è funzionato lo sciopero, perché a sorpresa è nato nelle scorse settimane e mesi un secondo sindacato, si è aperto un minimo di mercato, cioè un sindacato di sinistra e un altro sindacato non di sinistra e questi altri hanno detto no, noi cerchiamo di mandare avanti le edizioni, le edizioni di Tg1 e Tg2 sono andate effettivamente, lo sciopero ha fatto un flop clamoroso, che fanno questa mattina i giornali fiancheggiatori del sindacato di sinistra, o nascondono la notizia, o hanno la crisi isterica, è stato poi contato lo sciopero, come le vacche sacre in India non si può toccare lo sciopero, oppure vanno direttamente all'aggressione dell'altro sindacato, descritto come un sindacato giallo, servo del padrone, eccetera. Poi dite, ma secondo voi la gente normale, uno normale che passa per strada, primo dice ma a me che stracazzo in Vegas è sciopero, magari è la volta buona che qualcuno alla RAI lavora, secondo scusa, ma ti sembra normale scioperare per un servizio pagato con i soldi dei contribuenti, terzo la gente c'ha da fare, oltre che seguire queste vicende, quindi pensare che la gente si appassioni a questa cosa qua, anzi che si appassioni al fatto di non lavorare, di non mandare avanti un servizio pagato con i soldi del pubblico, è francamente una cosa surreale, ditemi la vostra qui sotto se volete nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.